Sia lodato Gesù Cristo e sempre sia lodato. Carissimi fedeli, vi do gli avvisi della settimana. Oggi sabato 3 dicembre alle ore 21 l'adorazione eucaristica. Domani, domenica 4 dicembre e seconda di avvento, la Santa Messa verrà celebrata alle 10 e 30. Lunedì, martedì e mercoledì alle 17 e 30. Giovedì 8 dicembre, festa dell'Immacolata, la Santa Messa inizierà alle 10 e 30. Poi venerdì e sabato alle 17 e 30. Alla sera alle ore 21 ci sarà sempre l'incontro di preghiera. Giovedì 8 dicembre, festa dell'Immacolata, l'incontro di preghiera non verterà sulle preghiere di liberazione ma sarà un rosario solenne per la festa appunto di Maria Santissima Immacolata. Vi auguro quindi una buona domenica e sia lodato Gesù Cristo e sempre sia lodato. Ave Maria Ave Maria Grazie a pena Grazie a tutti